Oggi, sempre qui con amici di Farfly, presentiamo questo travel kit. Sempre della perla, composta da una cassa da 16 e un rullantino da 10 pollici, facciamo vedere, piccola cordiera, che può essere ovviamente regolabile, in base alle vostre esigenze, si può anche togliere, quindi ottenere un suono da tommo. Iniziamo, ed ecco qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.